e vogliamo essere giusti coi tempi. Vi lasciamo all'intervista di Sara Sustini e Dario Nofrio a Eugenio Bennato con l'esecuzione, io vi ricordo il libro che abbiamo presentato, il suo autore è Andrea Rosso e lo ringraziamo per essere stato con noi, Mediterraneo, il mare comune, edito da Ecoinformazioni Nodolibri, grazie Fabio Cani, sono 600 pagine, 30 euro, quante fotografie e immagini ci sono? 300. 300? No, non è vero, non le ha contate, non le ha contate, sta mettendo vuoto per pieno. L'hai preso in castagna, non le ha contate. Grazie mille, il video. Grazie mille.